Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video sulle 10 curiosità della Lucky Sfida. In verità non sono 10, bensì 11, però l'undicesima è molto particolare, perché non sarò esplicito. Vi dirò qualcosa, ma sarete voi che dovrete arrivare alla risposta, dovrete capirla voi. E mi raccomando, scrivetelo nei commenti se avete capito a cosa mi riferisco. Ma quindi cominciamo dalla prima. Sembra scontata, ma molti non lo sanno. Cos'è la Lucky Sfida? Chiariamo questa cosa. La Lucky Sfida è appunto una sfida in cui si aprono i Lucky Block e poi si affronta un boss in One Command. Il boss in One Command è un boss che spona grazie a soltanto un Command Block in Minecraft Vanilla. Nulla di più, nulla di meno. Quella che avete visto recentemente sul canale è la Lucky Sfida Mod. L'aggiunta Mod non è messa lì a caso. Infatti i boss che andiamo a affrontare in quella serie non sono fatti sponare con un One Command, ma sono boss aggiunti dalle mod. E questa è l'unica differenza appunto. La Lucky Sfida, fino ad ora, ha contato ben tre mappe. La prima in pochissimi la conoscono, ma si vede nel primo video. Era una mappa totalmente a caso, in un punto che trovavo carino. E nulla, ci avevo fatto una casettina inossidiana e semplicemente mi ero messo a giocare in un mondo aperto, così totalmente a caso. La seconda, invece, molti di voi la conosceranno bene. E è la classica che abbiamo sempre utilizzato. Che a me, ragazzi, ha fatto veramente sognare. L'ho costruita praticamente a mano, blocco su blocco, perché a quel tempo non sapevo utilizzare nessun comando di Minecraft serio, tipo il Word Edit e robe simili. Mentre la terza mappa, ragazzi, l'avete vista recentemente, è questa qui della Mesa, che tra l'altro abbiamo costruito tutti insieme in live. Terza curiosità. La playlist su YouTube conta 114 video, ma non sono 114 episodi, infatti sono 113 episodi. Si vede che è sfalsato di uno. Perché questa cosa? Perché l'episodio 28 è ripetuto due volte, non per errore, ma perché è stato l'unico episodio sul mio canale che, appunto, è indiviso in due parti. Prima parte e seconda parte, perché era semplicemente troppo lungo. Quattro. Ragazzi, la serie ha rischiato di finire più volte sul canale. La prima volta, ragazzi, è perché io, appunto, tengo un backup del mondo sul desktop e invece di copiare il mondo nella cartella Minecraft e poi giocare sul mondo in modo della volta dopo ad averne uno nuovo di salvataggio, l'ho spostato. Ho fatto la Lucky Sfida, distruggendo come sempre, perché succede sempre, ho distrutto la mappa, e purtroppo poi mi sono reso conto che in verità quello lì era l'unico salvataggio che avevo e, ragazzi, nella mappa, appunto, ci sono un pochettino di segreti. Andiamoli a vedere. Siccome, come voi saprete, quando apro i Lucky Block sponano le cose, le ho dovute levare tutte a mano. Infatti, in certi punti della mappa, di cui uno, tra l'altro, dovrebbe essere qui da qualche parte, faccio prima con della TNT, mi sa. Eccolo qua, ragazzi, eccolo qua. In certi punti, ragazzi, ci sono alcune cose, tipo questi blocchi qua sotto, perché qui era sponato il classico tempietto che tutti quanti noi conosciamo dei Lucky Block. E ripulendo il mondo e provandolo a ricostruire come era prima, alcune cose sono rimaste. Da questa parte qui, vedete, c'è questa mega chiazza, ragazzi, qua, che è realmente in gioco così. Non è che, tipo, è spawn a tower. Questo qui è il backup vuoto ufficiale che uso ogni volta quando comincio. Mentre se scegliamo una barrier, dovrebbero esserci dei blocchi invisibili da qualche parte. Eccone uno qua, ragazzi, che si vede in più episodi della Lucky Sfida, in cui io arrivo in un certo punto perché magari mi metto ad aprire i Lucky Block qui e inciampo in un blocco invisibile, ragazzi. 5. Purtroppo è risuccesso. Eh sì, ragazzi, è risuccesso nella nuova mappa e nemmeno molto tempo fa. Infatti si parla di pochi mesetti fa. Stessa identica cosa. Il backup, invece di essere stato copiato, è stato spostato. Infatti, in certi punti, come qua, sono stati fatti di veri e propri tempietti, appunto, per ricordare quello che è successo, anche in questo caso. Ragazzi, se andiamo a scavare qua sotto, qua c'è un buco. Questo buco qui non l'ho fatto io. È un buco che esce, appunto, da una trappola di un Lucky Block. E noi, invece di, appunto, ripapparlo ricostruendo tutto, abbiamo deciso di costruirci un tempietto sopra. In questo punto, i blocchi sono di un colore differente. Perché questo? Andando a scavare sotto, stessa cosa della mappa di prima. Era sponato, appunto, la struttura dei Lucky Block. Qua abbiamo un Ender Dragon e una skin di un Lucky Block. Così, ragazzi, hai buttato a caso. Tutte, ovviamente, cose rimaste. E devo dire che questa mappa qui ha avuto un grandissimo problema ad essere recuperata. Era quella messa meglio, perché avevo vari backup, tutti distrutti di questa mappa. Questa qui era quella messa meglio, ma nonostante questo, era completamente piena di lava e incendiata. Non immaginate nemmeno il devasto. Tra l'altro, in quel periodo ero strafissato con i Lucky Block TNT che avevano completamente fatto esplodere tutto. Infatti, andando qua sotto, probabilmente, ci saranno ancora dei buchettini. Ragazzi, guardate la mappa dentro, praticamente, in più punti e vuota. Questa qui è un'esplosione assurda fatta dai vari Lucky Block TNT. Anche qui, vedete, tutti i blocchi mancanti, abbiamo completamente distrutto la mappa. Ed è veramente una botta di fortuna il fatto che io abbia avuto voglia di recuperarla, perché qui c'era da mettersi le mani nei capelli e buttare via tutto. La sesta curiosità ve l'ho già spoilerato un pochettino. Infatti, questa mappa è piena di segreti. Alcuni li avete appena visti. Sono, appunto, cose rimaste dal backup che ho recuperato. Altri, invece, sono segreti sparsi un pochettino in giro. Ad esempio, uno di questi bottoncini qui, che in verità dovrebbero essere tipo Sassolini vicino al laghetto, dice una cosa, è il pulpo meccanico domina, che, per chi è un bravo ragazzotto, sa che questo è un memino del canale. Pulpo, che tra l'altro sta pure laggiù, ragazzi, laggiù che ci osserva. Alcuni li avranno notato, altri no. Ma comunque queste, come già detto, sono le curiosità che forse non sapete. Altri segreti di questa mappa, appunto, sono le teste sparse a caso dei vari lezzini che, appunto, possiamo trovare a giro e molte sono state perse, appunto, a causa del backup che è stato rotto perché qua era esploso il mondo, quindi, beh. Oltretutto, questa casa qui è a due piani. Il piano sotto è quello che tutti quanti vedete, appunto, nei video. E il piano sopra è un po', è un po' oscuro. Sono cose che nessuno mai vorrebbe vedere. Io mi fermo qua. Tempo fa c'era anche uno spione qui, ma col tempo si è perso. Giuro, non so che fine abbia fatto. E siamo già alla settima. Nonostante i video nella playlist siano 114, ma realmente siano 113 episodi, ci sono ben 4 episodi della Lucky Sfida che non sono contati nella playlist. E sì, ragazzi, perché si tratta di episodi speciali che non rientravano nelle regole della Lucky Sfida e, di conseguenza, non sono stati aggiunti nella playlist. Vi ricordo, appunto, che la Lucky Sfida ha delle regole abbastanza rigide e se una di quelle regole non viene rispettata, non può essere considerato un episodio della Lucky Sfida. E a questo punto, ragazzotti, io vi sfido. Scrivetemi qua sotto nei commenti i titoli di video degli episodi che, appunto, non compaiono nella Lucky Sfida. Sono difficili da trovare, effettivamente. Non tutti ci riusciranno, ma comunque, a chi ci riesce, un bacione se lo merita. Tutti, e sottolineo tutti gli episodi della Lucky Sfida, hanno la stessa musica in sottofondo. In certi video si sente di più, in altri video si sente di meno, in altri è proprio esplicita la cosa, perché ho pensato soltanto alla musica in certi punti. Si chiama Permanent, di Spag Eddy. Penso si dica così. Io l'ho sempre chiamata Spaghetti. Comunque, ascoltatela, è veramente figa. E siamo alla penultima. Come speciale centesimo episodio, ho fatto un episodio speciale con il Lucky Block di Forcraft. E sì, si tratta proprio del centesimo. Episodio che, tra l'altro, riconduceva a una mia live speciale 100 episodi, che mi ha fatto fare un record assurdo di spettatori in live. Parliamo di ben 600, ragazzi, che per YouTube sono numeri bassi, su altre piattaforme sono numeri altissimi. Tra l'altro, come al solito, ragazzi, link in iscrizione. Spammino tattico, no? Sul mio canale esiste soltanto un episodio della Lucky Sfida in multiplayer. Scrivetemi con chi l'ho fatto. E, tra l'altro, al di fuori della mia serie, soltanto una persona ha pubblicato un episodio della Lucky Sfida, tra virgolette, ufficiale. Non parlo della Lucky Sfida Mod, ovviamente. Questo qui è un video dedicato alla Lucky Sfida Standard, che abbiamo sempre portato. Ragazzi, vi ho già detto 10 curiosità. Fatemi sapere nei commenti quante ne sapevate e quante non ne sapevate. Ma siamo giunti all'ultima. Quella che, appunto, io ve la dico, ma non ve la dico. Sarete voi che dovrete decifrare cosa voglio dire. Beh, mi limito a mostrarvi soltanto una cosa. Poi fate voi. Grazie. Grazie a tutti. Grazie.